Siamo pronti? Siamo pronti per vincere il Da Vinci. Ma c'è sempre qualcosa? Sempre. Questo non mi sembra Da Vinci. Non sembra, eh? No. 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 Cos'è? Un brazzi? Oh, forse sì. Guarda. Qua c'è. Ne zeresa? No, non è Da Vinci. Ma è di quel periodo, più o meno. Adesso dovremmo essere abbastanza bravi da capire che cos'è. Sì, ma storia d'arte non l'abbiamo studiata tutti. Non bene, comunque. Che cos'è? Non è Da Vinci? E... Che cos'è? Eh sì, qualcosa di così. Il Narche Tom ha un filo della Francesca. Il filo della Francesca. Perfetto. No, 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 no. Casi. Grazie. Grazie a tutti.